Editoriale Sport Italia Vincenzo Matrone. Mister, come si fa a preparare una partita che tutti danno per scontato in uno stadio che non sarà pienissimo? Bisogna leggere la classifica, se non si vince siamo mezza una strada. Dobbiamo andare a noi alla ricerca degli stimoli. Penso che in questo momento, anche se lo stadio sarà vuoto, per noi non ci deve essere nessun problema. Dobbiamo giocarla e con la consapevolezza che dobbiamo vincere a tutti i costi, perché se no a livello mentale, a livello di classifica, abbiamo tutto da perdere, lo sappiamo. Però bisogna prepararla e dobbiamo essere bravi a trovare gli stimoli. Ma penso che non c'è bisogno di andare a trovare gli stimoli, perché sappiamo che domani per noi è una partita molto molto importante.